Noi siamo prima di tutto dei militanti, siamo persone, uomini, donne, un esercito di persone che hanno scelto di fare politica senza nessun interesse personale. Ed è così che abbiamo iniziato il nostro percorso, un percorso di persone che non hanno mai tradito i propri ideali, che sono sempre stati dalla stessa parte. Perché vedete la politica è questo, la politica è soprattutto impegno, la politica è sacrificio, la politica è donarsi, la politica è il convinto impegno giorno dopo giorno di voler migliorare la vita delle persone. Ed è stato questo che ci ha portato tanti anni fa a iniziare questo nostro percorso. Oggi abbiamo realizzato un sogno, il primo sogno lo abbiamo realizzato, oggi siamo un grande partito, oggi siamo il partito della nazione, siamo il partito dell'orgoglio di sentirsi italiani, siamo il partito della nazione, siamo il partito della nazione, siamo il partito di patrioti, siamo il partito di quelle persone che ogni giorno, con ogni singola azione, dimostrano che prima di tutto esiste l'interesse dell'Italia. Mossi da questo spirito, oggi governiamo l'Italia. Abbiamo bisogno di tanto impegno, ce la stiamo mettendo tutta, ma nonostante spesso provano a dipingerci per qualcosa che non siamo, la maggioranza degli italiani è al nostro fianco, segno che stiamo facendo bene. Nell'ultima campagna elettorale, agli europei, gli unici partiti che crescono sono i partiti del governo italiano, Fratelli d'Italia, Forza Italia, La Lega, in tutta Europa sono gli unici partiti che crescono. E crescono dopo due anni di governo. Nessun altro partito al governo cresce come succede qui in Italia. È il segno che forse gli italiani ci stanno capendo, capiscono il nostro impegno e capiscono i nostri messaggi. E questo succede anche perché non abbiamo mai perso la bussola, perché noi siamo questi, perché noi siamo militanza, perché noi siamo partito e il partito è più tonico e vivo che mai.